L'Anci collabora con il Ministero dell'Ambiente sullo spreco zero, perché per noi spreco zero significa lotta alla povertà e contemporaneamente sostenibilità di comportamenti virtuosi nella produzione e nel consumo del cibo. A noi interessa lavorare con i comuni attraverso laboratori, workshop e premi come quello di oggi. Abbiamo fatto delle esperienze positive come quella di Montorotondo dove vengono riciclate le biciclette o Ferrara, buoni ma brutti nel senso che vengono recuperati gli alimenti che sono in fase di scadenza o come nel comune di Bari con la spesa sospeso, il frigorifero sociale. Sono tutta una serie di iniziative insieme ai sindaci del nostro paese che ci fanno guardare con più fiducia al futuro del nostro paese stesso.